Questa mattina è avvenuta a Fano la consegna dei lavori per la ciclovia del Metauro, un progetto da oltre 8 km e che supera i 6 milioni di euro di finanziamenti da parte della Regione Marche, che si inserisce così all'interno di un progetto strategico di cicloturismo e viabilità, collegato anche a quello della ciclovia adriatica. Ciclabili come strumento di rigenerazione urbana. Qui a Fano ricuciamo una città e quindi rendiamo possibile il collegamento tra uno dei quartieri più popolosi della città, Sant'Orso, con il resto della città di Fano, che ricordiamo la terza città delle Marche. Per questo abbiamo voluto investire 6 milioni e mezzo di euro nella ciclovia del Metauro, che si riconnetterà alla ciclovia adriatica e quindi collegherà la ciclovia adriatica con tutta l'entroterra alle spalle di Fano. E avrà anche un'opera iconica e funzionale come il Ponte Strallato, che supererà questa barriera fisica rappresentata dalle infrastrutture fanesi, che sono la superstrada, l'E78, Fano Grosseto, Via Papiria e il Canale Albani. Quindi mettiamo in sicurezza una parte della città, contestualmente realizziamo una ciclovia molto importante, attesa da decenni dai cittadini fanesi e da ultimo realizziamo un'opera sostenibile che rappresenterà un grande moltiplicatore per l'economia non solo di Fano e della provincia di Pesero Urbino, ma di tutta la nostra regione. Stiamo investendo con i fatti sul cicloturismo della nostra regione, sulla sicurezza e su un piste polivalenti, nel senso che non faranno solo turismo, ma serviranno anche ad unire la città con se stessa e con i propri servizi. Un percorso, quello della ciclovia della Metauro, che l'attuale sindaco Ser Filippi ha seguito sin dalla sua nascita, come consigliere regionale ma soprattutto comunale, poiché fu proprio quel centrodestra, allora all'opposizione, ad esprimersi a favore del progetto, assieme ad una metà della maggioranza di centrosinistra. La ciclovia del Metauro è uno strumento molto importante per collegare alcuni quartieri della nostra città, come ad esempio Carrara, Cucurano, Bellocchi, per arrivare a Sant'Orso e al centro cittadino. Oggi parte il cantiere ufficialmente, è chiaro che le aree di competenza del comune, dove stiamo già facendo gli espropri, ne mancano qualcuno, ma non è sicuramente un problema che andrà a bloccare un'opera milionaria, che vedrà un ponte molto importante all'uscita della superstrada, e quindi il biglietto da visita della nostra città sarà un bellissimo biglietto da visita grazie a questo ponte strallato che supererà la superstrada e via Papiria.